Smilling Critters Katma Puhuman è nella mia vasca idromassaggio. Ho provato a chiederle di uscire e a baciarla, ma ci sono riuscito. Cosa vuoi tesoro? È un lavoro. Sei così dolce. Oh no! Cosa è successo? Volevo baciarti. Voglio parlare con il tuo capo. Ciao, voglio un lavoro qui. Yes, facciamo un test. Cosa? Questo posto è sospetto. Prossimo passo. Baccio. Cosa? Mai? Hai perso il lavoro dei tuoi sogni. Non lo farò comunque. Hai ottenuto questo lavoro. Congratulazioni. Grazie mille. Amo dormire. Cosa stai facendo? Voglio controllare se tutto va bene. No, per favore, non toccarmi. Non tornerò. Cosa hai fatto? Devo nascondermi. Andrò in prigione. Enemie scopto. Non credo che hai any idea how best I really am. Lo vedo. Lo vedo. Moi, 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 moi. Moi, 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 I'm alex. Ah, ah. Possiamo fare tutto con te. Possiamo fare quello che vogliamo con te. No. Tempo di bacio. Tempo di cuccio. Tempo d'amore. What are you doing? What are you do? No! Smetti. Perché? Perché ti hanno baciato? E penso che gli piaccia. Out. Sei scappato. Perché io? Ora. Finalmente. Dove è PopCut? Uno lo sappiamo. Sono qui. Ecco un regalo per te. Prendi questa torta. Grazie mille. Aspetta. C'è una chiave. Iscriviti e metti mi piace per ottenere una chiave. Stasera. Ok. Posso scappare. Perché vuoi andare? Ho fatto questo per noi. Umè. Siamo in prigione. Non al ristorante. Noi. Siediti. Wow wow aspetta. Quando mi bacerai? Mai. Smetti di scherzare. Cosa stai facendo? Mi stai rubando il ragazzo. Stai rubando. Fight back! Fight back! Oh mio Dio. Questo è davvero strano. Voglio andare a dormire per ora. Oh mio Dio. Questo letto d'oro è incredibile. Mi fa male la schiena. La mia fuga è pronta. Voglio saltare. Oh oh. Ehm. Mi dispiace. Hai distrutto la mia fuga. Dieci anni di lavoro. Ora è la tua fine. Oh mio Dio. Mi hanno salvato. Perché hai picchiato il mio ragazzo? Aspetta davvero. Grazie. Nessun problema. Nessun problema cari. Ok. È ora. Sto scappando. O no. Perché lei è qui? Popcat. Ehm sì. Mi vuoi sposare? Ehm. Sposami. Sì. Non posso. Perché? David. Non riesco a toglierlo. Ora siamo insieme. Oh mio Dio. No. Cosa sta succedendo? Ok. Tempo di correre. Devo scavare. Evviva. Posso correre ora. Ah. Sì. Sono libero. Oh no. Aspetta. Dove sono? Sì pronto per l'altro. Sì pronto per l'altro. Verremo qui. Tra 5 minuti. Oh mio Dio. Non è possibile. Devo scappare. Ho questo piccone. Ah ma ora qualcuno deve restare qui. Il mio clone. Facile. Ora devo fare scherzi. Ah. Non vedo l'ora di stare con PopCat. Anche io. Sembro disgustoso. Sembro disgustoso. Ah. Prossima pozione. I miei capelli. I miei capelli. Chi l'ha fatto con i miei capelli? A ultima. È troppo. Devo scappare da questa prigione. O saltarmi fuori. Devo allenarmi di più. Ora sono tonto. Ma'am. Ah sono libero. Oh mio Dio! Ha preso. Aspetta sto per svenire. Ho bisogno di bocca a bocca. Oh mio Dio. Posso farlo. Grazie per la pistola. Ah ci vediamo. Oh mio Dio. Siamo così vecchi e felici. Sì. Oh no. Chi siete ragazze? Siamo del dipartimento di polizia. Possiamo controllare casa tua. Em certo. Dovremmo fare una notte fuori. Possiamo. Em ok. Cosa? Ehi. Grazie. Cosa stai facendo? Ti amiamo. No. Popcat cosa? Non è quello che pensi. Easy! O hai distrutto loro. Non toccare il mio Popcat. Lascia stare il mio Popcat. Ma tu... Avrai una punizione. Mi amava. Vieni da me, tesoro. Cosa fai nella mia casa? Ehi. Non correrai via. Veloce. In bagno. No, no. Non così in fretta. Una macchina. Cosa? Qualcuno aiuti. No. Sto lasciando questa casa. Muori. Quindi l'hai uccisa tu? Aspetta. Aspetta. È morto. Schibidi. No. Sono saltato fuori dal suo water. È ora di fare la cacca. Va bene. Ma chi sono queste persone? I miei fratelli. La voce dell'assassino. E ora confrontiamo le vostre voci. Bene. E il prossimo. Tu sei a posto. Il prossimo. Non sei un assassino. Il prossimo. Non sei un assassino. Il prossimo. Non un assassino. Questo sembra sospetto. È esattamente la stessa voce. Devo eliminarti. Aspetta. Hai ucciso la donna della TV? Ero innamorato di lei. Ma poi è arrivato TVMA. Litigavo spesso con lui. E poi la chiusa in una gabbia. Per favore. Fammi uscire. Ti salverò. Amore mio. Potresti uccidere anche lei. Aspetta. No. Lui è morto. Cos'è questo suono? Mi sono innamorato di lei e la nutrivo con frullati. Oh mio Dio. È così carina. M. Uno squat e grimace. Per favore. Ecco qua. Oh mamma. È così buono. Dammene di più. Prendi questo. Così buono. Dammene di più. Un. Va bene. Dammene di più. Non posso. Quindi muori. No. Oh mio Dio. Allora. Grimace. L'hai uccisa? No. Non l'ho fatto. Aspetta. Cos'è? Hai ucciso anche la donna della TV come lui? Non. L'ho baciata. Cosa ti sta succedendo? Parassita. Esci da qui. L'ho fatto io. Forse hai ucciso la donna della TV. Ho amato la donna della TV. Non tornare mai più. Aspettate ragazzi. Chi è questo? Hai ucciso la donna della TV? Lei mi ha bandito da casa sua. Wow. Questa casa è fantastica. Voglio entrare. Che diavolo è questo? Mi chiedo cosa ci sia dentro. Oh mio Dio. Aspetta. Devo usare il bagno. Veloce. Me ne vado. Cosa fai nella mia casa? Stai per essere bandito. Bru. Perché? Perché sono un water skibidi. Creerò la mia casa e ti bandirò anch'io. Il giorno dopo. La mia casa è pronta. È così bella. Posso entrare? Mai. Sei bandito. Ho bisogno di imbrogliare. Ehi, sono il tuo amico. Fammi entrare. Entra. Che ne pensi? Noioso. Cosa? Va bene. La tua vita è tornata e lei è morta. Sospetto. Viene a berla. Lo voglio. Mi sento così. Oh, perché sono blu. Bene. Ma hai ucciso la donna della tv? L'ha bevuta e si è potenziata. Oh mamma. È così gustoso. Oh no. Aspetta. Chi è questo? Egli un cesso glicciato. No. Perché? Volevo stare con lei. Aspetta. Che cos'è questo? Non. Ho bisogno di entrare in questo modo. Chi ha ucciso il mio amore? Non eri tu. No. Ero con lei. So chi è il colpevole. Era il glitch di Spikerman. Cos'è successo? L'ha appena colpito. No. Non troverà mai il vero me. Oh no. Oh mio dio. Ok ragazzi. Ora disegnate voi stessi. Hai finito. Un oratore di cacca. Grimace dell'oratore. Wow giga chad. Sei una donna? Va bene. Verde. Uomo tv. Aspetta. Cos'è questo fratello? Morire. E ora muori. Bene. Quindi ora. Mostra la tua faccia per prima. Oh mio dio. Il prossimo. Una ragazza. Questo è sospetto. Il prossimo. Zombie. Successivo. Mickey Mouse. Uno torna sulla mia scarpa. Amico. Il prossimo. Il ragazzo del KFC. Il prossimo. L'uomo mano. È pazzesco. E il prossimo. L'uomo telefono. Va bene l'ultimo. Oh no. No. È troppo. È il water skibidi. Lo sapevo. Era il water skibidi. Voglio sentire le vostre voci. Hello. I'm real titan speaker man. Va bene. I'm real man. Baby. Va bene. Arr. You never stood it. Di nuovo il vero speaker man. Know how much you like to fight. Questo era un po' il sospetto. I love speaker man. Sì. Super pretty. Speaker man. Vado sta con la nostra scena. Bene. E l'ultimo. Skibidi. Skibidi. Dom dom dom. Yes. Skibidi. Dom 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 dom. Era il water skibidi. Muori. Così facile. Speaker man. Disegnami il tuo incidente. Vediamo il primo. Questo non sembra buono. Va bene. Il prossimo. Lei è una regina. Lei è su un cavallo. Lei è roba. Questo è il water skibidi. Ti piace davvero il water. Bru. Oh aspetta. Ora sei davvero un water. Muori. Solo cinque rimasti. Prossima categoria. Bacia questa donna della tv. Ok. Lasciami provare. Sono il prossimo. Sembra una figura. No. Sono speaker man. Non una figura. Il mio turno. Facciamolo. Sembra tv man ma posso approvarlo. Sono il quarto per davvero. Va bene. È reale. Sono il prossimo. Non sei al 100% un water skibidi. Sono l'ultimo. Quindi mamma mi si eschi. No. Oh vediamo. Disgustoso. Sei un water. No. 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 Devo ucciderti adesso. Oh no. Ho ucciso tv man. Scusa. Oh no. Grimace skibidi toilet. Ha attaccato l'ohaio alle 2 del mattino. Muori. E ora? Mostrami il tuo jump scare. Oh aspetta. Non era speaker man. Ma va bene. Il secondo. Ah la mia testa. E ora il terzo. Va bene. Ma era speaker man. Quindi il quarto. Era di nuovo speaker man. Quindi posso approvare di nuovo. Ma ora è il momento dell'ultimo. E vediamo. Skibidi cattivo cattivo jump scare. Lo sapevo. Drew. Lo sapevo. Era il water skibidi. Solo 4 rimasti. Quindi ora. Voglio vedere i vostri ricordi. Ora sei pronto. Bello ma per favore fammi uscire. Mai. Va bene. Il prossimo. Questo era piuttosto bello. E il terzo ricordo. Va bene. Erano ricordi di speaker man. Il prossimo. Erano ricordi del water skibidi. Muori. Cosa è questo? Muori. Oh no. Solo 3 rimasti. Fammi vedere. La tua casa è la prima. Va bene. Questa casa non è molto sospetta. La seconda. Una casa grimace. Non mi sento bene. E l'ultima. Vive nella fabbrica del water skibidi. Scusate. Ma devo eliminarvi. Nonna skibidi. Muori. Va bene. Quindi 2 rimasti. Quindi l'unica cosa ragionevole da fare è uccidere quest'uno. E ora è giusto. Quindi muori. E l'unico rimasto è questo. Hai ucciso la donna della tv. Oh non l'ho fatto. Ero davvero geloso a causa sua. Donna tv. Vuoi sposare l'uomo tv? Dai. D di sì. Sì. Certo. Lei è mia. Non puoi portarmi via mia moglie. No. Ha ucciso mio marito. No. Va bene. Quindi hai ucciso tv ma e non lei. Aspetta. Chi è questo? Cosa stai facendo su tv woman? Abbiamo creato dei mostri enormi. Ma tutti si sono innamorati di tv woman. I miei mostri erano pronti a... La la la. Oh mamma. Mi stai portando. Wow. Cosa stai facendo? Quindi l'hai uccisa davvero? No. È sopravvissuta. Aspetta. Le luci sono andate via. È morto. Aspetta. Ho sentito qualcuno. Oh mio dio. Mi ha fatto uno scherzo. Sono morto. Sono morto. Mi sta salvando. Lo ha scaricato. Grazie. Il cameraman. Ma perché il tuo sangue sta arrivando alla donna della tv? Non l'ho uccisa io. Aspetta. Perché sento qualcuno. Oh mio dio. Chi è questo? Oh. La stanno baciando. Polizia. Chiamate la polizia. Hai ucciso una donna della tv? Tutti l'amavano quindi volevamo vendicarci. Sei pronto per il cambiamento? No. Mai. Non mi importa. Ti abbiamo reso brutto. Molto male. Chi è questo? Ha fatto la cacca su di me. Na na na. Oh no. Sta arrivando. Facciamo la cacca. Ho altro. Aspetta. Cosa è successo? È troppo. Sono sporco. Potresti essere tu. Non sono io. Ma scappa. L'hai uccisa. Non. L'ho presa. No 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 no. Uè 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 uè. Quindi se non sei stato tu allora? Cosa pensavo? Sei dei water. Non. Siamo umani nei bagni. Capo viene. Ja. Cosa è questo? Aspetta, sento del beatbox Oh mio Dio, chi è questo tizio? Da freak boom, hai ucciso la tua stessa creazione No, volevo mostrare le loro facce È il tuo rivelazione ufficiale del viso Prima tu, quindi sei ferito Ora tu, vediamo Umme, due teste, è pazzesco Prossimo, tv man Oh mio Dio, Riven Ora tu, vediamo Hulk, ora il cameraman con la tuta bianca Vediamo Oh mio Dio, wow Ok, nessun tv ma Steave, è strano Ora il grande cameraman, ti ho creato Quindi vediamo Iron Man, sei fantastico E ora il cameraman normale Oh mio Dio, baby E tu, uccello arrabbiato Scuotimento, scuotimento E l'ultimo, vediamo Oh cos'è questo? Hai un volto strano Ok, quindi le loro facce sono state verificate Oh, quindi non li hai uccisi Lui è morto Oh no Oh mio Dio, mio marito Chi sei? Ho creato il water skibi con lui Penso che sia ora Altoparlanti o testa da tv Altoparlanti Jetpack Laser giallo o rosso Rosso Più altoparlanti Telecamera o testa da speaker man Testa da speaker man Laser Questo Elettricità Wow Sono il prossimo Telecamera gigante o telecamera Telecamera gigante Wow Nucleo del cameraman o cacca Cacca Bru Ora preferisco il nucleo del cameraman gigante Wow Jetpack del cameraman gigante Wow E tuta Yo E martello È fantastico Siamo pronti papà Vai all'asilo figlio Ok papà Vai via Firmati Cosa? Non smetterò Oh mio Dio l'ho uccisa Nu Scappa Quindi l'hai fatto Rimani Tvuman e Tvma E hanno una famiglia Ho bisogno di trovare un vero papà Papà Mamma Mostratemi i vostri volti Mia mamma non è un bebè Tu? Oh mamma Papà va bene Ma mamma è sospetta Nikako avocado e Amanda Cosa? Sospetto Tu? Questo può essere reale perché mia mamma può essere senza testa Prossimo Reale Questo non è reale Mia mamma è una ragazza Sospetto Tu? Pancetta Senti la mamma LOL Genna Mia mamma non può essere Genna E infine Cosa? Skibi Toilette È troppo Ok Quindi i miei genitori avevano un salto molto buono e la persona che salterà più basso viene eliminata Siamo i primi Fratello Siamo i prossimi Un milione Andiamo 10 milioni Ora tocca a me Oh my god Vinceremo questa partita Sì baby Ho paura ma proviamo Fratello Il mio turno Sono il prossimo Buono Siamo i migliori Fratello Siamo ultimi e siamo così spaventati Possiamo perdere il nostro bambino OMG Il tuo salto è stato il peggiore Wow La famiglia Grimaci Incredibile Ora disegna la tua famiglia Vediamo Cosa? Sospetto Ancora sospetto Ragni Strano Godzilla è strano Iron Man è buono Aspetta Cos'è questo? Voi ragazzi siete sospetti Bene Bello Aspetta Non sono io Oh mio dio Non è la nostra famiglia Vi stanno eliminando Lo sapevo Voglio sentire le vostre voci Primo Non sospetto La tua volta Questa è la canzone degli amici alcobaleno Strano Per me è buona Quarta famiglia Che canzone accattivante Prossimo Che cavolo Tu Questo è molto strano Tu Abbastanza figo Tu Abbastanza figo Tu Buono Ora voi ragazzi Fighi Tu E l'ultimo Aspetta Cosa? Questo è sospetto Troppo Lo sapevo Ora devo vedere cosa avete dentro le vostre teste Primo Cosa? Mi stanno picchiando Sospetto perché non mi hanno mai colpito Seconda testa Oh questo è vero Mi ricordo di questo Terza Cosa? Hanno tolto la sua maschera? Quarta Oh mi ricordo di questo Quinta testa Oh cosa è successa? Sono morti Ma sono tornati Sesta testa Oh no Hanno legato la mia famiglia e mostrato i loro volti È vero Prossimo Cosa? Questo non è successo Sospetto Ora voi Cosa? Non è vero No 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 Ancora sospetto Ora voi Cosa? Il cattivo bebé tv ha mostrato i loro volti Sospetto E gli ultimi Oh mio dio Questo non è successo Muori Ora mostratemi come avete ucciso la vostra prima schibitoalette Tu per primo Ashley Non guardare lui Guarda me Ashley Guardami Wow È stato così dolce La tua volta Non male Tu? Molto bravo Quarta Questo è sospetto Ora proviamoci tu Oh mio dio Li hai uccisi Così bravo La tua volta Li hai distrutti come pazzi Aspetta Non era un tv ma Questo è sospetto Voi ragazzi Sospetti Ora tocca a te Non male Quattro rimasti Andate Era il tv ma E grimace Che cavolo ragazzi Sospetto Aspetta Non erano tv ma E i tv man Ultimi Era la famiglia di una toalette difettosa Ora è il momento di verificare i vostri spaventi La mia famiglia aveva gli spaventi più spaventosi Mostratemi il vostro spavento Secondo Ai Terze Aspetta È lo spavento della schibi di toalette della tv Tu? Fa male Tu? Sesto Il mio capo Il prossimo Il prossimo Era super sospetto Era super sospetto Tre rimasti Due rimasti Era la schibi di toalette mutata E infine Non era la famiglia della tv Era la famiglia di un La mia famiglia conosce il mio volto Quindi mostratemi come vi ricordate di me Primo Oh mio dio Sono simile Cosa? Non sono io Il prossimo Va bene Questo non è sospetto Cosa? Non somiglio a questo Sei sospetto Oh Simile Ancora simile perché è un bambino Per niente familiare Ultimo Steve toalette Cosa? Muori Non ci sono molte famiglie rimaste Ma ora è il momento di mutarvi e vedere cosa ne verrà fuori Tu per primo Oh mio dio Sei vero La tua volta Em Godzilla Famiglia successiva Questa è in realtà una sospetta Va bene Vedete questo ragazzi Falsato Quattro rimasti Go Siete tutti ancora tvma e tvman Quindi non sospetti E infine Cosa? Tvman e tvma erano molto forti Ora colpite queste pareti Io sono il primo Solo una parete Ora voi ragazzi Sei Non male Ora tu La metà Molto buon colpo Forza Rosso Ora tu Non ne restano molti Tre famiglie rimaste Bene Marrone Forza In realtà In realtà Niente male Ora arancione Wow Uno dopo l'altro Quindi lui era in realtà il peggione Ora Più lontano lanci la toilette Meno sospettoso sei Dai Non male Non male Il mio turno Ora tocca a me Il migliore Andiamo Wow hai fatto 600 Forza perdenti Forza Colpisci la smorfia Siamo rimasti solo due A Cosa Nessuno batterà questo Lo farò Questa era la peggiore Quindi muori Rain be friends I miei genitori sapevano come cambiarmi il pannolino Dai Oh my god L'hai fatto male Sei sospetto Prossimo No Perché hai usato il Grimace Shake Siete sospetti Andate qui Prossimo Dai Wow L'hai fatto bene Non sospetti Prossimo Così male Vai via Sono il prossimo Brutto L'ultimo Siamo i prossimi Cosa hai fatto? È troppo Sei falso Oggi è il mio compleanno E nessuno è venuto Quindi famiglia Datemi dei regali Tu per primo Oh mio dio La mia ragazza tv man Mi piace Sei vero Cosa Il regalo peggiore di sempre Nuovi gusti di Grimace Shake Cosa sono diventato? Ora tu Titan Chimera Man Il regalo peggiore di sempre Amo Barbie Grazie Genitori Cosa? Devo eliminarti Scusa La nostra famiglia Aveva un animale domestico Quindi indovina Qual è il nostro Ascoltando le voci Scusa Oggi Grazie a tutti Dopo aver sentito le voci, scegli il nostro animale domestico Lo abbiamo scelto Sbagliato, sbagliato e sbagliato No, non abbiamo un elefante E tu hai scelto bene Quindi li sto uccidendo perché non avevamo un elefante Cosa? Ora mostratemi come li siete incontrati per la prima volta Ha dato il mio fiore Wow, è così dolce Ora tocca a te Wow, è ancora dolce Ora tu Era dannatamente Ohio Non è una famiglia tv Ora tocca a te Cosa diavolo? Ora tu Oh mio dio Era la schibitoiletta Attenzione Ora lasciami sentire le vostre voci Cantate Cosa? Cosa? Vi piace davvero Wopper e Grimace Shade? LOL Oh mio dio Buona voce Come la mia famiglia E infine È la voce della schibitoiletta Ora disegnatemi Ora disegnatemi Famiglia Il migliore di tutti Salto incredibile E tu sei stato il peggiore Ultima categoria Fammi uno spavento Aspetta Era sospetto E tu? Wow Il tuo era real Quindi ti sto uccidendo Quindi questa è la mia vera famiglia Venite qui Il nostro bambino è bellissimo Sarà ricco come noi Sì Dammi questo bambino Dove è andato? Bella salta sopra questo OMG Easy Ora sopra questo Ok Bene Questo è per te F. Ti portoi Il mio turno Easy Hai per te È il mio turno OMG Fratello noob Stai per essere espulso dalla scuola Ciao Ciao ragazza Sono stato espulso dalla scuola Non riesco a crederci Mi insegneresti a saltare? Yes Popcat salta su questo Un questo è pericoloso Lasciami provare Oh no Sono un principiante Papà Devi andare in allenamento Adesso Non riesco Non riesco La persona che fermerà uguale la stanza peggiore Let's do this Inizia a saltare OMG OMG Ce l'ho fatta Ah Andiamo Non riesco Ecco la tua stanza Figlio peggiore Stanza privata Hello there Mi distruggerà Devo saltare sopra di uno Andiamo Oh no OMG Le mie gambe sono tornate Devo saltare di più Andiamo di nuovo Yeah Livello 3 Ciao Popcat Oh ciao Livello 4 Non può essere così Cosa sta succedendo? Sto perdendo la mia potenza Sto perdendo le mie gambe Oh il latte dovrebbe aiutare Papà Cosa è successo figlio? Lui Ha bevuto il mio latte Cosa hai appena fatto? Ok Oh 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 Abbiamo della pancetta Ti odio papà Ti odio papà Torneo di salto per 10.000 robux Tra tre giorni Figlio dobbiamo vincere questo Vincerò io Prendo un biglietto Devo iniziare ad allenarmi Devo iniziare ad allenarmi Posso aiutarti? Salta su di me What? Veloce ragazzo Ok Non riesco Prova a saltare sopra la lumaca OMG è così difficile Iai Nuove gambe Ok Ora salta sopra la ragazza più alta del mondo Ok Ok Prossimo livello Ho fame Guarda Cioccolato Non riesco Allenati su questo Ok Si Si Delizioso Ora non può battermi Mostrami le tue scarpe Oh papà Oh no Scarpe ok Eccoli qui Piace e iscriviti se non vuoi indossare queste scarpe Torno a saltare Veloce Oh Oh figlio Ho bisogno delle mie scarpe indietro Andiamo Chi ti ha fatto questo? Ah Sei un indoglione Non posso perdere con lui Saltiamo di più Ah Saltiamo sopra questo adesso Heavy adjusting Hehehe legati La mia più grande t común Questa ha cambiato la mia vita Tre, due, uno letteralmente il miglior livello oh me andiamo a dormire lui non può vincere il giorno successivo prossimo giorno incredibile scarpe ai piedi cominciamo a saltare non mi sento bene qualcosa mi ha morsicato le gambe perderò il torneo ho perso tutto sono così triste mi arrendo non puoi arrenderti salta su questo non ho le gambe non mi importa omg ce l'ho fatta cosa ora inizia ad allenarti per il torneo e salta come me proviamo di nuovo si successivo ah andiamo e ultimo ce l'ho fatta ragazzo blu sto arrivando ah grazie mille nessun problema il torneo sta per cominciare salta su questo facile a o me aspetta ora salta su questo o no il primo tentativo non ha funzionato papà dammi la pozione magica per saltare ok figlio ci l'ho fatta mi ha fatto questo il mio turno no ancora ultimo tentativo oh no posso aiutarti salta su di me chi ti ha fatto questo ora inizia ad allenarti per il torneo e salta come me sei il migliore si lasciami in pace ultimo salto papà dammi gli altri andiamo ok il mio turno ce l'ho fatta ah sono il miglior saltatore del mondo penso che sia il momento oh sto nascendo ho una telecamera in testa lol laser o cacca laser wow così cool altre telecamere wow jetpack questo è figo wow così cool tuta o tuta da poliziotto così incredibile e l'ultimo martello wow altoparlanti o iphone iphone ho cambiato idea zaino uo zaino sigma certo uo uo ho cambiato idea di nuovo rosso o giallo rosso wow fantastico ma ho bisogno di vestiti sono un capo altoparlanti o telecamere altoparlanti wow testa di speakerman finalmente wow laser sulla mano così cool una ciotola in testa o un cappello di mario wow e glitch ragazzi ragazzi smettete di bullizzarmi aspetta ah non hai robux cos'è questo oh spine sulla schiena o ali spino wow tv sulla testa wow bello altoparlanti sulla pancia o gile oh non ho il giubbotto antiproiettile abito wow sembro obama sono il prossimo testa tv o no dove sono finite le mie labbra geppa wow abito bello o strano bello wow scarpe fratello e si bello perchè siamo così realisti bevi il tuo latte per l'aggiornamento oh ho così fame wow sembriamo più reali oh penso che sia il momento eliminerò questa famiglia con i miei figli toalette gman o faccia cool gman bene occhiali o occhiali da sole occhiali oh sì occhiali a stella o toalette potenziata toalette potenziata sì wow pazzesco laser dalla toalette o seghe laser wow wow e infine cuffie ah sono pronto sono l'ultimo toalette prossime gambe robotiche wow testa wow faccia professionale prossima testa wow terza testa wow e quarta testa omg ultimo siamo pronti omg chi sono loro attacco li abbiamo battuti ah aggiornamento sembriamo così realistici aspetta sta volando via ferma eh si è ingrandito usiamo i nostri laser funziona tutto penso che sia caduto laggiù o no uno di loro è reale perché si è diviso in parti mostracci i tuoi volti gman bene non sembra sospetto il prossimo fratello è schibi toalette in schibi toalette prossimo fratello non sospetto bene ok bene non sospetto bene bene ok cos'è questa roba e l'ultimo non voglio mostrare la mia faccia ok ora mostra il tuo bagno lo sapevo cameraman in schibi toalette aggiornamenti wow sembriamo così reali ora canta la canzone di schibi questo è sospetto pb lo sapevo quindi prossima categoria mostrami il tuo spavento vai secondo vai spaventoso questo è così che schibi toalette spaventerebbe prossimo questo era un po' il sospetto ma va bene out sesto settimo ottavo nono ora tu cosa è successo al tuo viso sospetto ora tu gli ultimi due vai e l'ultimo aspetta non è il bagno di gman lo sapevo era grimace shake è ora di aggiornamento omg sembriamo fantastici va bene ora voglio vedere cosa hai dentro la testa entriamo cosa non ho fatto cacca su di lui non sospetto ora lui non c'è modo che sia stato creato così ora lui va bene ci stava mangiando in realtà è vero ora lui quarto ci ha uccisi vera schibi toalette quinto mi ha preso omg va bene il prossimo aspetta devo passare attraverso l'orecchio ora passiamo attraverso l'occhio omg cosa stava cercando di fare con me non sospetto ancora il prossimo aspetta no non è possibile tre rimasti grimace shake perché lo ha nella sua testa oh mio dio mi ha messo nella sua diapositiva è quello che farebbe due rimasti andiamo cos'è questo questo è davvero un ricordo strano l'ultimo aspetta cosa sono diventati amici dei cameraman questo è così brutto e questo è falso quindi muori schibi di bot è ora di aggiornare wow wow il bagno di gman poteva saltare molto in alto quindi salta andiamo bene facciamolo siamo arrivati in cima andiamo facciamolo siamo arrivati in cima sono il prossimo ragazzi buono salterò su questo dall'albero facile il mio turno no e io così vicino sono l'ultimo bene sei stato il peggiore quindi muori è tempo di aggiornamento wow incredibile ora ti sciacqueremo e vedremo cosa esce popcat fallo ok quindi prima telecamera e la successiva successivo 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 grazie popcat telecamera poteva mangiarlo cacca reale l'hamburger è reale pestello noob scuotimento con la smorfia proviamolo donna in tv falso è ora di aggiornare wow sembro fantastico ok ora togliamoli e vediamo i loro corpi cane non sospetto ah è divertente con le braccia è su una sedia a rotelle tre rimasti in auto due rimasti donna che cosa diavolo non penso sia lui ok non è falso quindi lei lo è ora aggiornamento wow sembro così bello ora voglio vedere cosa c'è dentro la tua bocca fratello è disgustoso entriamo nulla il prossimo vediamo ci hai avuti omg il prossimo cameraman ok è così che sarebbe schibi di toilette è il tuo turno i nostri figli creatura disgustosa nessuno uomo in tv omg l'ultimo no no famiglia di schibi toilette stai per essere eliminato ah tempo di aggiornamento wow wow sembro incredibile ora disegna te stesso e vediamo i risultati bene il prossimo anche bene terzo aspetta l'ultimo è l'ultimo è speakerman non il bagno quindi muori va bene ora ne restano solo quattro quindi vediamo cosa c'è dentro il tuo cervello la donna in tv ti ha fatto cacare addosso il prossimo sei stato messo nella lava è brutto il terzo il cameraman titano ti ha eliminato l'ultimo hai iniziato a odiare schibi di toilette omg è falso muori i tre rimasti mostrami i tuoi cosplay nella vita reale omg il prossimo ok e l'ultimo sono tutti abbastanza sospetti quindi ora canta una canzone va bene il prossimo ok e l'ultimo va bene e nella prossima categoria mostrami cosa pensi di cacca omg la donna in tv è falso perché schibi toilette non pensa a lei e gli ultimi due quindi ora combattete scusa il tuo era peggio quindi sei quello vero siamo valutati solo un dollaro o amiamo nostra figlia e io genitori perché sono così odiato ragazzi se volete fare l'upgrade superate questa scuola oh my god vediamo te allora è stato creato nella tua let è finita mi attraverso mi attraverso mi attraverso cambiato cosa? cosa hai fatto con me? questo è buono era controllato da un essere umano reale questo non è male prossima azione ha mostrato tutti i volti degli studenti senza il loro permesso aspetta cosa? ah ti ho legato e adesso vediamo le vostre facce cineoperatore albert oratore omg dracula oratore rosso mr beast uomo titano della tv cineoperatore titano gregorio ha dovuto cantare una canzone per entrare nella fabbrica di schibidi 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 oleh stop that vcshow you how it is done Schibbidi schibbidi stava registrando la donna della tv ah cosa questo eh mie sei bravo ho fatto l'upgrade conoscenza ha combattuto in canzoni con le toilette schibidi rrrr e non Ho visto Buono. Ha usato gli altoparlanti per far cantare tutti a Brookhaven. Nanananana. Ciao ragazzi. È arrivato alla fabbrica di toilette skinny di sotto copertura e le ha distrutte tutte. Posso entrare? Canta una canzone. Buona canzone. Andiamo. Anch'io voglio entrare. Non schibidi. Ho bisogno di un travestimento. Ora tu. Buono. Ora tu. Andiamo. Il tuo turno. Grazie. Ora questo strano. Questo non è un schibidi toilet. Oh no. Il mio turno. Wow. Incredibile. Il tuo turno. Va bene, non c'è problema. Buono. Il mio turno. Buono. Ora tu. Bella canzone. OMG. Sono così stressato. Il tuo turno. Sospetto ma va bene. Yan. Distruggiamo la fabbrica. Cosa? Sei stato bravo. Per gli oratori. Yan. Wow. Sembri figo. Ora tu. Donna della TV. Stava combattendo con TVMA e cantando. Mane. Tutti l'amavano e le facevano regali. Non è male. Stava distruggendo le toilette schibidi con il suo sguardo. La la la. Morirai. Io? È così carina. Giusto. Ha mostrato il suo volto e quello delle altre ragazze nella vita reale. OMG. Lui è così bello. Sceglierà me, non te. Apportiamo la mia ragazza al ballo. Prima oratrice ragazza rossa. Vediamo la tua faccia. Oh, hello there. UMH. Cine operatrice. UMH. Sono bella. Sì, certo. Tu. Meglio di una brutta donna della TV. Vediamo. Ah. E l'ultimo. Oh my God. Bellissima. Vieni qui. Say yae. Grazie. Wow, ho fatto l'upgrade. Sono migliore di te, stupido fratello. È il mio turno? Non, non. È il mio turno. Prima di diventare una toilette, Schibidi stava cantando la canzone Schibidi. Buono e triste. È stato cambiato perché è stato risciacquato. La toilette. Hai dissiacquato. È come se stessi dietro dalla toilette. E si tratta di un po' di un po' di un po' di un po'. Schibidi papàp. Oh yes, yes, skibidi papàp. Non male. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Non è male. La donna della TV era innamorata di lui, ma dopo che si è tolto la maschera, ha rotto. È il momento di mostrarmi il tuo volto. Nessun problema, ragazza. Prendi A. Wow, sembro migliore. Ora, ragazzi, chi salterà più in alto avrà un miglioramento migliore. Proviamoci allora. Bru, cambia solo la testa. Il mio turno, perdenti. Ce l'ho fatta. Wow, sembro nostra madre. È il mio turno, diventiamo i migliori. Aggiornamento. Il mio turno. Spero nel meglio. Cos'è questo? È il mio turno dopo. Sono arrabbiato. Il mio turno A. Wow, perfetto. Quindi sono l'ultimo. Ho così paura. Wow, miglioramento. Wow, ora ragazzi, per migliorare battete Skibi Toilet nel salto? Ah, non mi batterai mai. Vedremo. Miglioramento. Wow. Ora tocca a me. Woof. Ah, non mi batterai mai. Questo è fantastico. Non mi batterà mai. Andiamo. Cameraman, non mi batterai mai. Oh no, devo batterlo. Siamo allo stesso livello. Aggiornamento. Wow, questo è epico. Andiamo. È il mio turno. Andiamo. Facile. Wow. Ok, siamo gli ultimi. Andiamo. Non mi batterà mai. Vedrete. Ah, facile. Miglioramento. Wow. Sembri fantastico. Ti amo. Ma per ottenere il prossimo miglioramento, batti il tuo avversario, figlia TV. Sconfiggili. Ok. Non ne hai battuti tutti. Quindi niente miglioramento. Ora, cameraman contro TV Man Titano. Andate. Hai vinto. Miglioramento per te. È davvero eccezionale. Ora tu, TV Man. Contro un gruppo di Toilette Skibi. Wow. Li hai battuti. Incredibile. Wow. E l'ultimo. Tempo di upgrade. OMG. Così figo. Rompete questo muro. Sono il primo. Sento l'upgrade. Sono il prossimo. Solo uno. E nessun miglioramento. Sono il prossimo. E sento l'upgrade. Wow. Sembro un titano. Sono l'ultimo. Siamo solo in tre e nessun upgrade. Per ottenere il prossimo miglioramento, battimi. Vai. Darumasanga. Devo vincere. Darumasanga. Oronda. Darumasanga. Oronda. Darumasanga. Posso premere? Sono così vicino. Ma voglio che TV Man muoia. Ah, è morto. Sto premendo. Ah, ho vinto. Sono donna della TV. Camera e oratore sono sopravvissuti, quindi miglioramento. Ora valuta i loro jumpscare senza morire per ottenere l'upgrade. Forza, questa toilette non ci farà uno jumpscare. Quello che hanno perso, OMG, tu? Cosa, Tuiletta con la smorfia? Scarso jumpscare. Principiante? Uomo nella toilette. Bru, sono sopravvissuto, ma molti altri sono rimasti. OMG, ora lui? Ai, OMG, conosco questi tre. Oh no. Il migliore? Ora toilette magica. Nonno adesso? Ai, questo ragno? Ok, bene, avanti. Il prossimo. Questo, ora questa. Ora l'angelo. Rimasti solo un paio? Dai. Cosa? Ora il ladro toilette, schibi. Ai, toilette gemelle. La mia testa. L'ultimo. Sono sopravvissuto. Cazzo, miglioramento. Wow, non è possibile. OMG, tv man. Sembri il migliore. Sei il mio figlio preferito. Non può andare così. Cosa è successo? Mia madre, cosa sta facendo mia sorella? Bru. Datemi regali. Ho una famiglia parlante per te. Regalo brutto. È troppo. Devo fermarla. Cosa? Si è diviso? Trova qual è reale per ottenere l'upgrade. Bene. Zombie. Bene perché sei ancora donna. Viso cucito. Donna così brava. Senza testa. Sospetto. Ah. Toilette Skibi stai per essere eliminata. Anche tu. Sento l'upgrade. OMG. Ora, bacia il tuo crollo. Bene. Ora tu. Sospetto. Il prossimo. Bene. Il prossimo. Aspetta. Cosa è sospetto? Il prossimo. Allarme. Normale. Due rimasti. Bene. L'ultimo. Questo. Scrivi di. Ora mostrami il tuo appuntamento da sogno. Bene. Il prossimo. Dolce. Tu. Ok. Tu. OMG. Tu. Bene. L'ultimo. Non era la donna della tv. Miglioramento. Cosa è questo? Miglioramento sbagliato. Ora canta una canzone. Wow. Bellissimo. Bello. Ma questo è sospetto. Muori. Lo sapevo. E tu? Scarso. Molto male. Tre rimasti. Mostravi le tue unghie. Cos'è questa? Bru. Bene. Il prossimo. Un, two, three. OMG brutto. Voi due uscite. Ragazzi. Brookhaven RP sta venendo attaccato da un grande water. Stanno spaventando tutti. Oh no, aspetta. Io sono un water. Qualcuno aiuti. Per favore. Chi ha creato questa cosa? Cinque giorni fa. Bene. Salite in questa macchina ragazzi e cambierete. Wow, sto cambiando. Water o lavandino? Water. Bene. Uomo o donna? Uomo. Grande sorriso o triste? Sorriso. Bene. Capelli rosa o marroni? Marroni. Gambe o denti? Denti. Oddio. Spavento. Oddio. Tocco a me. Specchio o water? Water. Arcobaleno o mimetico? Mimetico. Bene. Felice o arrabbiato? Arrabbiato. Agrer. Cappello o banana? Bandana ovviamente. Wow. Baffi o barba? Barba ovviamente. Sto bene. Mani o soldato? Soldato. Oddio. Impossibile. Ah. Sono un militare. Ok. Tocca a me e devo scegliere il water. Tre teste o due? Tre sono troppe. Due. Cos'è questo? Uomo o donna? Uomo. Io sono giga chad. Sporco. Fratello. Ok e l'ultimo? Arrabbiato o felice? Ovviamente felice. Prossimo. Sarò il capitano. Specchio o water? Water. Fratelli. Sporco o pulito? Sporco. Secondo fratello. Due occhi o sei? Due. Wow. Occhi laser. Wow. Capelli corti. Oddio sono il capo. Sono il prossimo. Telecamera o microfono? Telecamera. Bello. Braccia o ali? Braccia. Bene. Testa telecamera o gambe? Più telecamere. Bello. Corto o gigante? Gigante. Cuore laser o amichevole? Laser. Water. Ah. Il mio nucleo. Sono l'ultimo. Odio i water e voglio distruggerli. Umano o pappagallo? Umano. Wow. Sono un vero umano. Testa d'oro o testa telecamera? Telecamera. Wow. Sacco della spazzatura o vestito? Vestito. Oh my god. Bello. E amichevole o assassino? Amichevole perché voglio aiutare le persone con i water. Sono pronto. Oh my god. Ah, siete tutti pronti. Ma aspetta. Perché non siete dei water? Perché odiamo i water e sto per farli sparire Agrer. Cosa avete fatto? Vi ucciderò. Fermatevi. Siete tutti arrestati. E state andando in prigione. Aspetta perché io... E niente più domande. Chi è questo? Non parlare e giudicarmi. Ok. È stato bullizzato nell'esercito e lo hanno buttato nel water. Questo ragazzo è così magro. Facciamo i bulli con lui. No, per favore. Basta, per favore. Ah, entra. Brother, no, no. Non uscirà mai. Mi vendicherò di loro. Dopo essere diventato un water, la sua vita era triste. Ok, devo fare pipì. Di nuovo? Perché nessuno tira l'acqua del water? Veramente disgustoso. Prossimo. È diventato il più forte SkiwiDop del mondo e ha distrutto tutti. Ma hanno ancora distrutto te. Lo so, sono inutile. Spaventava le persone che si sedevano su di lui. È ora di fare la cacca. Adoro questo gabinetto. Fatto a... Cosa hai fatto? OMG aiutatemi, per favore. OMG ho bisogno di tirargli lo sciacquone. Ok, prossima azione. Aveva il collo più lungo del mondo. Questo è il collo più corto del mondo. Questo è medio. E questo... Cos'è questo? What the hell? M è impressionante. Prossima azione. Era la persona più forte del mondo. Mamma, voglio fare la cacca. Quindi vai al bagno. Ok, mamma. Ecco. Ci siamo. Ume. Per me sei troppo pericoloso. Vai in prigione. Ok, tempo per il prossimo. È più grande della terra. Prossimo. Ha creato un esercito di water e erano in tutti i bagni delle persone. Questo è il mio esercito di water e ora andate nelle case delle persone. È ora di andare in bagno. Cos'è questa cosa? Aiuto. Questo è così brutto. Hai creato quest'apocalisse. Ha sganciato una bomba di cacca su Blue Cabin RP. Facciamo cadere la bomba. No, 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 no. Tempo per il prossimo. Il suo piano era di trasformare tutti i water nel suo laboratorio. Sei pronto per cambiare? UMC. What is that? Oddio. Figo. Ora carica. Ah, sono pronto. Hai trasformato i bambini nei tuoi soldati. È brutto. Aveva un terribile raggio laser che usava quando qualcuno lo scaricava. Lasciami scaricarti, ah. Se n'è andato. Sono tornato. Ah. Andrai in prigione per questo. Prossimo uomo telecamera. Da bambino suo padre ha sostituito la sua testa con una telecamera. Ok, facciamo. Wow, che triste. Stava cercando di fermare l'apocalisse dei water scaricando le teste dei water skiddy. Wow, è molto bello. Grazie uomo telecamera. Il suo esercito voleva scaricare il personaggio principale ma non ha funzionato. Uomo telecamera. Sta venendo scaricato. Non ha funzionato. Ha messo una telecamera nel water per vedere cosa stavano facendo le teste skiddy ed era spaventoso. Fratello impossibile. Non l'hai fatto. L'ho fatto. Ha bevuto una pozione ed è diventato molto grande e poi ha distrutto tutti. Non l'ho fatto. Oddio eri grande ma alla fine hanno ancora vinto. È triste. Ha ucciso tutti i water ma ce n'erano altri. Questo è davvero spaventoso. Ok fratello eri una brava persona vai libero e combattili. Ok prossimo. Ok vediamo cosa hai fatto. Se volevi batterli dovevi solo scaricarli. Vediamo. Oh ha funzionato. Ok quindi prossimo. Erano gemelli prima di diventare un water. Entrate nel water. Un ne perché. Ci sono dei robux gratuiti. Ah penso che saranno pronti ora. Perfetto. Wow è spaventoso. Il prossimo. Il loro attacco speciale è che possono attaccare da entrambi i lati. Cosa? Questo è un attacco molto buono. Per me. Hanno più amici all'interno del loro water. Wait a minute. Quanti? Sei. Aspetta cosa? Troppe teste. Quando li scarichi tutti scendono. Ah voglio farlo. Scarichiamo te. Per favore no. Ah molto soddisfacente. Ok quindi prossimo. Sono stati fatti per catturare persone e portarle in laboratorio. Perché catturi queste persone? Perché vogliamo fare dei bagni con loro. Ok prossimo. Se volevi batterli dovevi solo scaricarli. Ora è il momento di iscriversi e mettere mi piace a questo video per ottenere un miliardo di Robux. Avevano una prigione per persone normali dove i water avevano teste. Per favore fatemi uscire da qui. Ok quindi prossimo. La polizia normale cercava di fermarli ma non ci riusciva. Fermati lì criminale. Maia. Cosa? Stai andando in prigione fratello. Ok prossimo. Water d'oro. Era solo nei water delle persone ricche. Devo essere veloce. Non sto scaricando e pulendo. Non c'è moto. Puliscimi. Non ci sconfiggerete mai. Ah. Sfigato. Le persone ricche trattavano male il loro water. Potevo vederlo. Qualcuno lo ha scaricato alla fine. Ahahahahahah. Io così finisci come una testa di water. Ok sei a posto fratello. Ok prossimi ragazzi. Ah. Uomini telecamera. Ma normali. Non capi. Cercavano di uccidere l'angelo del water skibidi ma non ci riuscivano. Hanno visto tutti i piani di schibidi dopo e li hanno distrutti con un raggio di luce. Non ci sconfiggerete mai. Ah sei sicuro? Ah. Sfigato. Prossimo. Hanno preso i water skibidi e lo hanno portato per l'interno petrol. Hanno fatto un esercito e hanno fatto una grande battaglia con i water. Non ha funzionato. E' triste. Avete provato ragazzi. Hanno trovato una soluzione per i water e hanno usato un grande altoparlante. Wow questo altoparlante deve essere molto potente. E' dietro di te. Ah. Ok ragazzi siete a posto. Prossimo andiamo. OMG. Water volante. Stava volando ed era difficile scaricarlo. Oh è vero. Vieni qui. Ti scaricherò. Non posso. Qualcuno si è seduto su di lui ed è... Helicopter. Helicopter. Nanana è ora di fare cacca. Oh eccolo. Ah. No. Torna indietro. Ah. Ok prossimo. Stava spaventando le persone attraverso le finestre. Nanan bella giornata. Fratello potrebbe avere un attacco di cuore. Male. Ok prossimo. Uomo radio. Era il salvatore della città perché scaricava il water e poi lo usava. Ha scaricato oltre 20 water alla volta. Ha fatto la lotta definitiva con il mostro più grande del water ma ha perso. Ok sei a posto per me. Vai qui. Ok prossimo. Vediamo. Creatore di water. Ha messo il water nel ristorante e hanno iniziato a mangiare gli umani. Un esercito voleva distruggerli ma non ci riusciva. Che diavolo? Perché i tuoi water sono così potenti? OMG prossimo. Ha dato a un water il massimo potere ed era troppo forte. OMG era troppo forte fratello. Ok ultimo. I suoi water erano persone normali per... Wow li hai cambiati tutti. Questo è troppo. Cosa? Si ha. Sono fuori. Viene lui. Ciao. Cosa è questo? Perché è così piccolo? È più piccolo degli altri bambini. Cosa? Ma forte. Cosa hai fatto? Dobbiamo allungarti. Non fare questo. E ora sono ancora più piccolo. Non preoccuparti. Figlio. Ecco la tua stanza. Wow wow. È Pip. Non lo merita. La mia stanza. Perché? Mi dispiace figlio. Ho ristrutturato la tua stanza. Che cosa? Questo è troppo alto per me. Il giorno dopo. Wow. Questa scivola è davvero pericolosa. Mi dispiace. Primo. Sei bravo. È il mio turno. Sei troppo piccolo. Cosa? È il mio turno. Sono bravo. Ehi. Non è giusto mamma. Ho paura. Ti aiuterò. Ah. Sorella. Com'è stato? Emme. Ha perso le gambe. Cosa hai fatto? Mi dispiace. Punizione. È troppo. Non sarò mai professionista. Mia madre mi odia. Diventerai alto. Il giorno dopo. Aspetta. Mi sento più alto. Cosa è successo? Mamma e papà. Guardami. Non mi importa. Posso partecipare a una corsa? Sì. Oh sì. Inizia. Wow. Sono così veloce. Cosa? Per te. Wow wow. A e. Per te. Mamma. Ho preso dieci volte a e. Wow. E ho preso f. A è giusto. A causa di Popcat. Cosa? Aiutami. Nel frattempo. Mi affogherò qui. Aspetta. Sono uscito. E sono ancora più alto. Ah. Sono davvero arrabbiato. Nascondiglio. Li sento. Ciao mamma. Ah. Dov'è lei? Addio mamma. Vendetta per il passato A. Cosa hai fatto? È troppo. Oh me. Mi sento male. Questa è la ragazza più alta del mondo. Non sarò mai alto come lei. Aspetta. Se vuoi essere più alto, salta sopra questo. Cosa? Ci proverò. Nonna. L'ho fatto. Wow. Ora salta sopra questo. Ok. Hai bisogno di motivazione. Wow wow. Wow. Sono così alto. Ah. Salta sopra questo. Difficile per me. L'ho fatto. Non può essere così. Distruggilo ragazzo. Oh no. Salto. Stanno arrivando. L'ho fatto. Ah. Un abbonamento e un mi piace equivale a una ossa per me. Per favore. Non riesco. Stanno arrivando. No. Stanno sparando. Questo è difficile. Ah. L'ho fatto. L'hanno colpita. Salto successivo. Ah. L'ultimo. Salto. Sono così grande. Oh. Cosa vedo? Chi è la persona più alta del mondo? Ho vinto. Non c'è molto. Ah. Cosa? Sì. A-G-R. Non mi batterai mai. Cosa hai detto? Hai vinto. Oh my God. Cosa hai fatto? Ora lei è la più alta. Sono così triste. Sei così piccolo. Quindi resterai lì per dieci anni. No. Non per dieci anni. Dieci anni dopo. Sono cresciuto così tanto. Aiutami. Ho perso la mia altezza. Prendi questa pozione mamma gambe lunghe. Ho bisogno della tua altezza. Ora. Hai preso la nostra altezza. è ora di uscire. O-M-G. Cos'è quello? Devo colpirla. Prossimo tentativo. Prossimo tentativo. Pozioni elicottero. Sono sulla sua testa. Smetti di crescere Proprio adesso OMG Ho perso tutto Distruggerai il mondo Ehi povero Sei cattiva Aiutami Vieni qui Sto crescendo Ehi fratello Lasciami in pace Ah perdente Addio salto successivo Wow Prossimo aggiornamento Non riesco Questo è troppo difficile Non posso Sapevo che non ce l'avresti fatta Sono arrabbiato L'ho fatto Ultimo salto Facciamo una gara per la tua altezza Vincerò No Lo farò io Andiamo Ehi Ora è difficile Posso volare Chi è? Dove sono? Uno di loro è tuo padre Se vuoi migliorare con un abito migliore E poi con un abito migliore e il miglior abito Trova tuo padre vero Togliamoci la maschera Non mio padre Il secondo Cosa? Il terzo Ah Aspetta È un bambino Ah Questa cosa No Ragazzo E Espera Jenna No Ora uccidila Sono illuminato Era Jenna Ora posso comprarmi un aggiornamento Wow E ora Mostrami perché mi hai lasciato quando ero giovane Sono andato a comprare il latte Non è possibile Mi hai lasciato per un latte Avevo 120 figli e 10 mogli Quindi ti ho dimenticato Ho visto il tuo volto e ti ho lasciato Cosa? Sono davvero così brutta? Sai Mio padre non mi farebbe mai una cosa del genere Oh Lo so Era un tipo strano Uccidiamo Sei andato al bagno e non sei mai tornato Ti hanno rapito Mi hanno rubato a mia madre Oh Potrebbe essere vero Ti ho lasciato con tua madre per una bellissima donna speaker Tu muori Oratore Mi sento come un invito a un nuovo aggiornamento Wow Sono ricco ed è una figata Ti ho lasciato perché ho sposato una toilette schibiti Cosa? Mio padre non l'ha fatto Espera Ti ho mostrato il mio vero volto e sei scappato Oh mio dio Facevi meme non divertenti Mi facevi paura Ti ho lasciato perché ti ho dato uno scutimento di grimace Non Numero 13 Ti ho lasciato nelle condutture L'ultimo Ti ho lasciato perché sto uccidendo Questo è quello che avrebbe fatto mio padre Quindi ora Mio padre era un buon cantante Mostrami le tue voci papà Successivo Mi piace Posso lasciarti Bene Mi piace Questo è ciò che mio padre sapeva cantare Numero 10 Questo è sospetto Ho bisogno di ucciderti Oh È la donna della tv E ora puoi comprarmi un upgrade Io Questo è illuminato Va bene La prossima Mi piace questa voce Ultimi due Oh questo è illuminato E l'ultima Vediamo Oh È così bello Va bene Ora mostrami cosa c'è nella tua testa Come? Ah Perché la mia testa si sta ingrandendo Ah Smettila Mi ha sparato con il laser Andiamo alla prossima Oh mio Il mamma ci ha lasciati Mio dio È così triste Non credo che sia vero Terzo Questo era un po' sospetto Quindi entriamo Oh non Alla memoria di quando sono morto Quarto Oh no Mi ha dato un calcio e sta con la ragazza del cesso schibidi Quinto Entriamo Mio padre è entrato nella grimace e sta morendo E la prossima tv Oh non Mio padre mi stava sparando mentre facevo la cacca Quello non è mio padre Ti sto insospettendo E ora il prossimo Ah Mio padre ha creato una grimace tremolante È così falso ragazzi Sto dando anche te al sospetto Tre di loro sono rimasti Quindi ora Prendiamone un altro Mi ricordo questo Ho allagato l'intera casa con il grimace shake Il prossimo Mio padre mi ha tirato lo sciacquone Oh mio dio È così strano Prossimo No Mio padre ha usato la grimace per attaccarmi Questo è male Ti sto illuminando Aspetta Grimace Oh no È stata una grimace per tutto il tempo Mio dio Ed è ora di aggiornarsi Oh Sto così bene Allora Mio padre aveva una cotta per la donna della tv Quindi disegna la tua cotta Vediamo Va bene Buono Buono Mi piace Mi piace Bello provare Buono Oh Questo è sospetto Va bene Mia madre Perché c'è un gabinetto di schivi di accanto a lei E l'ultima Schivi di vc non ha mai baciato mia madre Oh mio dio Stai morendo in questo momento Stai morendo in questo momento Bene Allora ora Aggiornatevi Mostratemi le vostre vere facce Bene Per prima cosa Quello non è mio padre Strano tipo Questo potrebbe essere mio padre Il prossimo Will Smith Wow Vecchia foto Schreck No Sei sospetto La prossima Va bene Va bene Aspetta Cosa Mio padre non è una donna Sei stata eliminata Ya Donna della tv Lo sapevo Morirà Bene Ora vediamo Va bene Il ragazzo finisce Ancora Schreck Oh mio dio Ragazzi Ma posso ancora migliorare Quindi Yo E poi posso volare Ora Mio padre può saltare molto in alto Quindi salta Lo farò Va bene Oh Oh mio dio No No Sono adesso Vediamo Spero di farlo meglio Va bene Va bene Bello No No Mio dio Perdenti Guardate questo Oh mio dio Oh mio dio Io sono il prossimo Oh Sono bloccato Sono il prossimo Oh mio dio Sono il migliore Oh mio Bene Ora ti eliminiamo E speaker man Va bene E io sono l'uomo d'oro della tv Andiamo E ho un laser d'oro Wow Bene Quindi ora Uomo tv Mostratemi i vostri corpi Oh Pagliaccio Non credo Non credo che mio padre fosse un pagliaccio Ma forse Chi lo sa Bene Ora il prossimo Vediamo la tua faccia Vediamo la tua faccia Va bene Allora vediamo il tuo corpo Ah Ah Lui è Shrek Che diamine Oh mio dio Oh mio dio Il prossimo Questo è falso Figura Va bene È un po' sospetto Oh Aspetta Gabinetto Schibidi Uccidi subito questa persona Oh Sì Mi sento aggiornato Sì Signore Io Sembro così illuminato Ora Mio padre ha una moglie donna tv Così la donna tv li bacia Il primo Oh Cos'è questa reazione? Va bene Controlliamo la tua reazione Oh Cosa è successo per cambiare in una grimace? Va bene Il terzo Bene Questo è strano Bene Quarto Oh Bene Il suo cuore ha iniziato a battere E il prossimo Oh Va bene Questo è strano Va bene Si è trasformato in un vero uomo Bene Il prossimo È morto Bene Questo è davvero sospetto E l'ultimo Grimace Va bene Uccidi subito questa persona Bene E mi sento aggiornato Mi piace Ora mio padre non ha mai riso alle mie battute Così ora Cerco di farvi ridere Hanno riso La prossima Check out my new shoes They're the brand new Nike kicks That is so fire Hanno riso E ora Ragazzi a vai lì Un'altra ultima Che stai ottenendo punti Ora voglio vedere la vostra reazione Alla grimace scossa Fatto Il prossimo Vediamo Bene Non sospetto Il prossimo Bene E il quarto Oh bene Normale E vediamo Il prossimo è abbastanza normale Il prossimo Va bene Questo lo posso contare Va bene Vedi questo Ah Va bene Questo era sospetto E l'ultimo Ai Grimace Va bene Questo era falso al 100% Morire Oh Guarda il mio aggiornamento Guarda come sono illuminato Quindi La prossima categoria Mio padre era davvero veloce Corriamo Iniziamo Andiamo Lasciami spawnare una macchina Ah È qui Ragazzi Ehi Questo è barare Smettila Fratello Oh mio Non c'erano leggi Sto barando anch'io Ah Un cavallo Vittoria facile Ragazzi Ah Ah Ehi Smettila di imbrogliare fratello Non sono ammessi i cavalli Aspetta C'è qualcuno all'inizio Va bene Posso ucciderti Quindi Nella prossima categoria Mostratemi i vostri incubi Si è fatto la pipì addosso Va bene La prossima Oh mio dio No È morto e la sua famiglia sta piangendo Il prossimo È stato attaccato da un gabinetto di schibidi Ed è un incubo Il prossimo No Lo schibidi water sta facendo la cacca addosso Aspetta Mio padre non avrebbe mai avuto un incubo del genere Va bene No È morto È stato triste Va bene E l'ultimo Va bene Quindi sto uccidendo questo Ciao ciao Ora è il momento dell'aggiornamento Che cos'è questo? Ora distruggi questo muro e vai per primo Eh va bene Ehm va bene Lasciami provare Secondo Pugno Solo quattro Blue Il prossimo Attacco Oh mio dio Oh mio dio ragazzi Bene il prossimo Bene il prossimo Bene il prossimo Il prossimo E il suo urlo è normale Non posso eliminare nessuno Mostrami i tuoi ricordi Vediamo Va bene Era reale Vediamo il secondo Va bene Questo era un ricordo di mio padre Così posso approvarlo Vediamo il terzo È un bene E l'ultimo Vediamo Va bene Non sospetto Quindi nessuno verrà eliminato Ma ora dovete darmi un regalo per il mio compleanno Cosa avete per me? Va bene Il primo Un fiore Va bene Il secondo Toilette schibidi Che cavolo Il terzo Vediamo Oh una donna in tv Va bene E l'ultimo Oh un cane Yo sta cantando una canzone sulla toilette schibidi Mi dispiace Ma devo eliminarti Oh lo sapevo Cameraman Non uomo della tv Muori E sento un miglioramento Yo Sembro così figo Quindi ora voglio vedere cosa avete nella bocca Va bene Il primo Oh Ha delle toilette schibidi In realtà Non è sospetto Va bene Il secondo Oh mio dio Un hamburger schibidi Toilette Andiamo dentro Scuoti il compleanno Grimace Ma mio padre non piace il milkshake Grimace Vai via Amico Va bene Rimangono solo due Quindi ora facciamo una gara di braccio di ferro E scopriamo chi è il vero Oh mio dio Oh Cosa sta succedendo Oh L'ha colpito L'ha schiaffeggiato Quindi ho trovato mio padre vero Sì Aspetta Wow Sono migliorato Mi hanno detto che tutto ciò che disegno diventa reale Testiamolo Ho creato dei bambini bellissimi a Mutiamoli Fatto Non mi sento bene Papà Vieni qui Papà Ancora Oddio Ha funzionato Il mio pennello è il migliore E me aspetta Ehi Riportaci alla normalità Oh Orario della lezione Bambini Disegnatemi Facile Buono Evviva Il mio turno Buono Lascia che te lo disegni Che cos'è questo? Cattivo Aspetta Mi dispiace Ho troppo potere Non disegnerò mai più niente PopCut cosa hai fatto? Ho bisogno di disegnare Fatto È la tua fine PopCut Oddio Cosa è appena successo? Se ho dei superpoteri Come posso fare soldi? Guidare attraverso quei dossi per un milione di dollari Oh my god Prima io Ah perdenti Il mio turno Posso provare? Ah sì ma perderai Devo disegnare una macchina Fatto Wow Sta volando Aspetta come Facile Questa è impossibile Ho bisogno di una nuova macchina Andiamo Andiamo Ce l'ho fatta Non posso credere a quello che è successo ma ecco il tuo premio Sono ricco Sono ricco ma ne ho bisogno di più Chi salterà più lontano vincerà l'intera terra Oddio È questa la mia macchina Sono il primo Bel salto Il mio turno Che bel salto Tocca a me Perdenti Buon salto Tempo per me Nug Arriverò alla mia Lambo Salto intermedio Ora è tempo per il bagno Aspetta È troppo lento Lasciate che mi disegni una nuova Fatto Wow Oddio Quasi la fine Congratulazioni Hai vinto la terra Andiamo La polizia Lui sta imbrogliando Catturatelo Devo disegnare una macchina Fatto Wow Devo disegnare Disegnare di nuovo Fatto Ok È ora di distruggerli Wow Ha funzionato Capo Cosa devo fare? Saltami addosso Grazie Grazie Ora devo nascondermi Perché ce ne sono altri Oh no Cosa dovrei disegnare dopo? Um Pocat Aiutami Stanno distruggendo la mia fabbrica Oddio Disegnerò personaggi personalizzati Non ti preoccupare Fatto Wow Ora penserò a qualcosa di strano Fratello Che Bello Sta qui Prossimo Ah Incredibile Ultimi due Oddio Prossimo Fatto Wow Ok Attacco Grazie mille Pocat Nessun problema Ma ora sei in arresto Mi dispiace Cosa? Si fermi Si fermi lì Incredibile Sono in prigione Disegnerò la fuga Bello Um 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 Ciao Sto valutando da ora Ha perso la testa E ha bisogno di qualcuno Che ne disegni una nuova Lo farò io Bello Tutti i suoi amici sono morti E ne voleva di nuovi Tutti i miei amici sono morti Aiutami per favore Disegniamo Fatto Evviva Prossimo Stavano facendo il bullo con il giocatore e lui voleva l'ultra crucifisso per reagire Mi sta maltrattando per favore disegna un crucifisso Non c'è da preoccuparsi Grazie Grazie Tutto l'uno Il prossimo è Zolfius Si è trasformato in piccolo e voleva diventare più grande per tornare in gioco Ok Fammi provare Fatto Grazie Voleva essere più grande della terra Oh Sarà difficile Ma ce la farò Ok Ce l'ho fatta Bene Ha rubato l'autobus con i bambini di Ramby Friends È brutto Quindi ciao ciao Facile Ok il prossimo È stato picchiato dai bugli e voleva denti e ossa nuove per spaventare la gente Disegniamo Fatto Wow questo è così fido Ha mangiato i bambini dell'uccello opila ma poi se ne è pentito I bambini restano qui per un momento Beh i bambini Una buona cena Aspetta non mi sento così bene Perché ci hai mangiato? Ehi se vuoi ottenere Robux per i prossimi dieci giorni metti a mi piace e iscriviti ora Ha cambiato il suo gioco in porte e stava inseguendo le persone con i pazzi Smettila di inseguire le persone Fratello Il prossimo Aveva bisogno di nuovi personaggi per il suo terzo capitolo Noi Sai disegnare i personaggi? Sì ho un'idea Perfetto Il prossimo Fatto Oh no fa schifo ma lo amo Aspetta a prendere il vestito Grazie Il prossimo Fatto Forse l'ultimo Oh my god Disgustoso Che cosa hai detto? Il prossimo Voleva valutare ogni jump scare di ognuno da Garten di Bambam Oggi valuterò tutti i vostri jump scares Prima Hai ora tu Buono Prossimo Ora tu Ah cattivo Non fa paura Il prossimo è lo squalo Spaventoso Ora scream Eugen L'ultimo Buono Wow è stato impressionante Il prossimo morto Voleva mostrare ogni faccia di ogni giardino personalizzato di Bambam Mostrerò la tua faccia nella vita reale No E me sei metà cattivo e metà buono Vai libero Prossimo Aveva tre fratelli che avevano fatto le loro case e il lupo cattivo stava cercando di distruggerle Ehi io farò una buona cena Dobbiamo nasconderci nelle nostre case perché sta arrivando Farò saltare in aria le loro case Buono Ora tu Sono troppo debole Finalmente L'ultimo Non funziona Oh no È troppo forte Sei sopravvissuto? È bello Voleva essere più magro perché la gente lo prendeva in giro Lo farò Wow grazie Voleva una moglie e dei figli Ok ti disegnerò una moglie e dei figli Oh my god Siete dei bellissimi bambini Ah bello Lo chef gli ha rubato i figli e ci ha fatto gli hamburger Quindi li vuole indietro Cibo piacevole Torna indietro Cuciniamoli No 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 Non sotto i miei occhi Per me sei una persona perfetta Ok prossimo È così puzzolente che quando scorreggia c'è un allarme tossico Non credo che le tue scorreggie siano così cattive Sei sicuro? Sto per morire Mangia la cacca e poi fa la cacca più grande del mondo Oh cos'è questo? Lo mangerò Buono Oh aspetta Devo andare in bagno Buono È ora di lavarsi le mani Che diavolo Il prossimo È così disgustoso che fa la pipì sul gabinetto chiuso È ora di fare pipì Fatto Nooo Ha bisogno di sapone per punirsi perché tutti stanno morendo per il suo odore Lascia che lo disegni Fatto E per me fai solo schifo ma sei una brava persona Prossimo Aveva una cotta per Baldi e voleva che lui si innamorasse di lei Per favore Baciami Sei così intelligente che dovremmo stare insieme Ok Prossimo Volevano avere dei figli ultra intelligenti Ok Fammi disegnare Fatto Sei così intelligente Stava dando la caccia alle persone e le uccideva e qualcuno doveva fermarla Wow No 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 Smettila di inseguirmi Devo disegnare Ok Fatto Ora Grazie per aver guardato Ciao 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 Ciao